www.teleperformance.it Sulla sede di Taranto qualcosa come 3.000 persone. Molti di questi sono stati stabilizzati grazie agli incentivi del governo. L'azienda ha chiesto l'anno scorso aiuti e il governo gliele ha dati. Quindi molti ragazzi tarantini sono diventati lavoratori a tempo indeterminato ed è una cosa buona. Subito dopo l'azienda ha preso una grande commessa di back office, quindi di lavoro di call center per l'ENI. E anche questa è una cosa buona, lavoro italiano, soldi italiani che restano in Italia. Quello che c'è di meno buono è che qualche giorno fa l'azienda abbia comunicato di voler delocalizzare tutto il lavoro della commessa dell'ENI in Albania. Se ne vanno all'estero. Hanno preso i soldi per gli incentivi, hanno preso i soldi per la commessa di un lavoro italiano e lo portano all'estero in Albania. Perché in Albania il lavoro costa meno. Chi controlla? Chi fa in modo che i contributi italiani vadano a aziende che restano in Italia? Chi fa in modo che i soldi degli italiani vadano ad aziende che investono in Italia? La prossima volta che avrete un problema da risolvere e telefonerete a una delle società dell'ENI, provate a chiedere che tempo faccia la tirana. Via l'Italia. Via l'Italia. Grazie a tutti.